E allora come dicevamo e come vi presentiamo ogni venerdì, lunedì alla BCC alle 21 è il dialetto a essere il grande protagonista, vi presentiamo la compagnia che lunedì prossimo sarà protagonista sulle tavole della BCC Arena. Voi venite dalla lontanissima? Dalla lontanissima Pesaro, siamo alla piccola ribalta e vi invitiamo a esserci perché mi raccomando, perché? Perché I pens me, è la commedia nostra, i pensalò, sent le menbone, nitpour, nitpour. C'è da rida, c'è da rida a stoffe. C'è da rida a stoffe, piccola ribalta, infatti sono in due, no ma non è vero. Siamo tanti, oggi siamo in due ma lunedì saremo tutti a completo. Tantissimi, va bene, una compagnia che insomma dà tempo sulle scene, quindi collaudati, sei divertito. Un bellissimo gruppo, poi questa storia è una storia molto divertente che in realtà si intreccia un po' con la politica, un po' con le situazioni pesaresi, insomma realtà quotidiane, esatto, della pesaresità e ci sarà anche da riflettere, quindi è una bellissima storia e vi invitiamo numerosi. Ma il buon umore non manca mai, insomma come hai detto prima. No, no, assolutamente, la commedia è decisamente godibile, è simpatica, è un'oretta e mezza da godersi. In allegria, la piccola ribalta da pesere a Fano. Ok, sì. Avete il passaporto? Eh, come no, come no, perché passata l'arzilla vi chiedono il passaporto. Non dè al portempo. Bene. Ok. Ok.